C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra due mesi, tre mesi, quattro mesi. È incredibile.